Stefano Barboni, allenatore della Junior Bielese 2004-2003. Allora, finale decisa da un episodio, ma com'è andata al di là della finale il torneo? No, il torneo è andata bene, abbiamo avuto alti e bassi, non è che abbiamo fatto delle prestazioni buone, magari contro Verona, Atalanta, squadre che comunque erano molto più brave di noi. Poi in partite dove dovevamo fare qualcosa di più, non so se i ragazzi la vogliano, sentivano meno la partita, hanno giocato un po' male diciamo, però tutto sommato il torneo è andato bene, non posso lamentarlo. Senti, forse confrontarsi con squadre come la Sverona, Atalanta, Gaza e i ragazzi da di suo? Sicuramente se devo giocare contro di loro o contro Vallelvo cambia, mi spiace perché dovrebbero avere una mentalità già più che ogni partita va presa mai sotto gamba, ma con la stessa convinzione. Comunque hanno fatto bene, io non mi posso lamentare assolutamente. Al di là di questo torneo come sta andando la tua stagione e la stagione dei tuoi ragazzi? Ma bene, io adesso è due mesi neanche che li ho presi questi ragazzi perché c'è stato un cambio di allenatore e stanno facendo bene, è un gruppo che prima non giocava tanto a calcio, giocano ognuno per i cavoli suoi, non si passano tanto la palla, non si cercano, stanno cercando di creare il gruppo, stanno iniziando a giocare e arrivano anche i risultati, piano piano. Quindi soddisfatto del tuo lavoro di questi due mesi? Abbastanza, si può fare molto meglio, si può fare molto meglio perché comunque molti sono un po' testoni, non hanno ancora capito che siamo un gruppo, siamo una squadra, ci dobbiamo passare la palla, è dura, è dura però ci stiamo lavorando piano piano. Quindi il lavoro non ti manca? No, no, non mi manca il lavoro, non mi manca.